Ed ora vi racconterò la storia dello scorpione. Uno scorpione voleva attraversare un fiume e chiese ad una rana di portarlo. No, disse la rana, no, grazie. Se ti portassi sul dorso tu potresti pungermi e la puntura dello scorpione è mortale. Ma, disse lo scorpione, dov'è la logica? Gli scorpioni cercano sempre di essere logici. Se io ti pungessi, tu moriresti e io affogherei. La rana si convinse e lasciò che lo scorpione le salisse sul dorso. Ma proprio nel bel mezzo del fiume sentì un dolore terribile. Si rese conto immediatamente che lo scorpione l'aveva punta. E la logica, gridò la rana cominciando a discendere verso il fondo insieme allo scorpione. Non è logico quello che hai fatto? Lo so, disse lo scorpione, ma non posso farci nulla. È il mio carattere. Beviamo al carattere.